Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Siv in questo nuovo video di Shadow, Tomb Raider, Bini, andiamo a fare l'ultima cresta che finalmente se la faccioniamo non ci posso quasi credere cavolo e dunque devo andare qui in questo punto qui fatevi vedere mi sono già perso dice che devo andare qui devo parlare con te salve dopo aver parlato con etil il viaggio rapido sarà più disponibile fino al completamento della storia principale si potrà affrontare certo che sono pronto come sta procedendo il piano etsli abbiamo delle idee uccio le truppe di kukulkan seguiranno il sacbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide se li prendessimo frontalmente saremmo praticamente sicuri di intercettarli ma potrebbero sopraffarci facilmente passando di qua invece saremo più al sicuro ma servirà un tempismo perfetto altrimenti ci sfuggiranno c'è un altro modo voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cechino però sarebbero in trappola ogni piano comporta dei rischi ma credo che questo sia il migliore bene allora ai tuoi ordini prepara le truppe andiamo perfetto facciamo i cechini oh che bello vedo loro qui ci separiamo la tua strada è di là lara è un porta fortuna prendilo che cosa carina fa attenzione gianna anche tu dolcezza perfetto oh sciamo che emozione vediamo un po andiamo pure bella retta so che c'ho un punto abilità ma non c'ho il coso non c'ho il campetto lì da fare la betta insomma quello lì insomma e cominciamo è arrivata l'aria cominciate a tremare e cadere tutto quanto ok benissimo oh ma c'è fuoco c'è un lavico lavica non so cosa ci sia fuoco sui tacco strano andiamo un po' cavoli andiamo bene ragazzi anche c'è un po' di ossigeno da qualche parte no perché sapete un pochino che vai lì lì dai ok sta venendo l'ansia vai retta vai oh cavoli dove devo andare di tablo ok perché dove passa a lei succede sempre qualcosa ok tutto prima andava tutto bene adesso scrolla tutto accidenti più che l'ultima missione ma per questo vuol dire che devi distruggere tutto eh insomma eccoci qua la miserica vedi vediamo vediamo cosa c'è qui che va fuoco ok incredibile già gianna ce l'ho fatta vedo il ponte merda hanno fatto saltare il ponte troveremo un'altra strada ok lo vedi quel fumo rosso si do un'occhiata un orato ha detto che il fuoco cremisi era il suo destino ok non metterci troppo ha non metterci troppo io eh eh devi mettere in conto un po' di caccate il ponte è stato distrutto ottimo capi squadra coordinatevi con i mezzi di supporto cardina 2 date assistenza visiva ricevuto ricordate gente ogni varco può essere sfruttato dal nemico eccoci qua che cazzo eh che cavolo quando non corre ok altri elicotteri cavoli 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 c'è qualcosa nella mappa cittadini che giro oh ho visto qui cardina l'otto nemici avvistati cambio rotta verso 1 0 5 eh dai sull'aretta forza ce la puoi fare stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo eh che cazzo devo fare eh ricordatevi attaccano da ogni facciamo progressi in tutti i settori ma le perdite sono ingenti eh ok riproviamoci ma che sia una cosa facile insomma non sapere dove andare non è certo la cosa migliore mi sta sterminando qui cardina l'otto nemici avvistati cambio rotta verso 1 0 5 ok sicuro dobbiamo andare qua andiamo un po' più giù forse stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo eh ragazzi non capisco se non capisco non capisco 5 ok proviamo in un altro modo l'unica cosa che viene da pensare è andare giù io ragazzi non so non ho un'idea ok stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo se mi dicesse qualcosa il gioco e teneteli lontani dal tempio a ogni costo ok proviamo così facciamo progressi in tutti i settori ma le perdite sono ingenti a tutte le unità state alla larga dalle pareti ricruppatemi sovrapponete le linee di tiro alleluia scusatemi ma non l'avevo proprio capito ok l'origine del fumo posso arrivarci del fumo c'è il fesce c'è l'ara fumarte eccoci qua ok traccia traccia che cazzo eh oh Quando il fuoco cremi si arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un orato. Sei tu il fuoco cremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kugulkan. Capirà quello che diciamo? Interessante. Mi sta da dio, sembra la sua. No cool. Wow. Ok. Ok. Ma qui tante. Non capisco se si siano prostrati o hanno paura. Mi temono. Non toccare, insomma. Molto mennacca. Ma... Ah, è lei. Dicevo, che cazzo è quello lì? Ok. Vediamo pure. Se non ci fosse niente da raccogliere. Molto mennacca! 98. Aaaaa diseño. Piaaaaaa. Aaaaaa. 갔ena. Aaaaaa. Nanananananananan- John, ho alleati. Gli Yashil sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Eh, spero anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Croft. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Oh, cazzo. Oh, cazzo, cazzo. Sono dappertutto. Ci servono rinforzi. Ora! Dove devo andare? Vi inviamo subito rinforzi. Merda! Merda! Delta! Io zoomo di qua, io vado a naso, ragazzi. Sono finte. Qui squadra Z. Alto consiglio in posizione. Difendiamo il perimetro. Ripeto, alto consiglio al sicuro. Qui comandante Rourke. L'intero alto consiglio è qui per assistere personalmente alla nostra vittoria. Dipenderemo il perimetro a tutti i costi. Spero dove sento la strada giusta. Oh, cazzo. No, questo non si vede che si crolla. Eh, vedo subito, infatti. Ho bisogno d'aiuto qui. Mi avvio. Vedo già che è diverso, quindi... ...me la filo. Spartaci via di qui, cazzo! ...vele nessuno. Sai, 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 sai. Devi eliminare cazze, non ci sapesse ma... Cavoli! Scusate salvo perché se arriva una cazzina per sbaglio l'assalto mi tocca di fare il mondo da capo Ok perfetto Wow niente che dire davvero fantastico Il dono della rinascita Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere Sono con te Questo rito devo completarlo da solo Si stanno sbagliando È tutto sbagliato No Gli spetta di diritto Dacci lo scrigno No no non posso devo proteggere Paitini Tutti creiamo il destino non solo tu tutti noi insieme Wow Wow Non mi fa raccogliere scusate Stavo vedendo Non mi fa raccogliere Andiamo andiamo a raccogliere Non puoi fermarci crott Siamo tutti qui Questo ti metterà un po' Morirai tu Quello stupido accademico sentimentale di Dominguez ha tirato le cuoia Prendo la trinità avrà il pieno controllo Dominguez ha tirato le cuoia Non posso passare Non posso passare È una zona calda Dovrò farli fuori scusate sto facendo un casino della miseria lo sto prendendo ma non lo prende quindi vuol dire che da lì non ci posso andare cazzo no perché non lo prendo quello con la torretta una bella domanda questa è una zona calma dovrò farmi fuori vedi che alla trinità in porti di paititi avremo presto un nuovo punto come non potresti mai immaginare allora adesso voglio fare cose con calma perfetto facciamo la pietra se non lo fa attendere che cazzo è il thing we ma che cazzo è il thing we ma che cazzo è il thing we ma sappiamo entrambi che siamo stronti avanti selvaggi vi ammazzerò tutti fino a lì un paladin uno sono circondato senza munizioni vi prego wow che cazzo di faccia la maschera wow ragazzi wow finalmente posso prendere qualcosa perché mi faceva prendere niente abbastanza spazio prende un po' di munizioni qualcosa mi fa prendere ma non me ne fa prendere pazienza a me vabbè ah qui solo solo i guerrieri allora vediamo pure mamma mia che battaglia ok perfetto rurk è morto cerco dominguez devo fermare il rituale le terremo a vada al più possibile oddio se l'ho dato mamma mia vediamo un po' eeeh di la che ho e questa no quella che ho e questa e non posso potenziarla guardavo se la roba che avevo potevo potenziarla ho questa e questa la posso potenziarla perché è una merda scusate ah beh cosa potenzio che c'è tutto quanto al massimo porca miserica mamma mia niente eh completi siamo a posto questo siamo a posto direi che che siamo a posto con tutto le abilità otto punti grandissima nara allora cominciamo a prendere questi che hanno bisogno resistere i danni vai perfetto eh sì perché sennò eh premio F2 per usare le miscele di toxicismo toxicismo riduce i danni di attacchi in mischi e a distanza e questo mi servirà F2 e questo qui qua 3 punti gli effetti di toxicismo durano eh ecco eh abbiamo fatto l'unplay ci mancava solo una tomba ragazzi poi abbiamo fatto ci dici devo trovarla oh son contento tanto contento perché abbiamo usato praticamente abbiamo fatto quasi tutti i punti e io sono contentissimo ragazzi direi che ci possiamo anche firmare qui per questo video tutto e un video come al solito lasciate un like un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensiate e poi adesso vi do solito lascivai ciao